Ciao a tutti ragazzi, oggi vi porto bene 3 TCBM che questi due mi erano già arrivati tempo fa, questo non era arrivato ieri, ne sto aspettando molti altri quindi penso che lunedì barra martedì farò un altro video di TCBM, il primo è con l'utente SuperMegaRicky10 che tempo fa già mi inviò questo Regigigas X Ultra e mi scordai di fargli il video di TCBM, quindi lo ringrazio in questo, grazie mille, la carta è in perfettissime condizioni ma aveva inviato anche molte extra che però ho già messo via perché è passato del tempo in italiano e quindi adesso di Disting Futuri di Ultra mi serve solo Shemin e Zekrom X Ultra quindi grazie mille SuperMegaRicky10 è stato molto gentile e soprattutto molto veloce anche nello spedire, nel decidere così. Poi vi porto il mio secondo TCBM con l'utente X97 che ci scrive Ciao Timodemagician, ti ringrazio per aver fatto un secondo TCBM con me e ne abbiamo già fatto un terzo e praticamente all'istante appena mi è arrivato questo ne abbiamo fatto un altro che mi arriverà a giorni e spero di farne altri, ciao e alla prossima X97 e facendo il suo risultato. Le due carte che mi interessavano tra virgolette di più tra virgolette erano queste due del McDonald's, il problema è che non mi ricordavo che in un'altro TCBM già le avevo ottenute, quindi queste due in particolare faranno parte di una sorpresa particolare a un certo utente e niente non dico altro. Comunque X97 grazie mille, le carte come potete vedere sono mint, mintissime, ve le faccio vedere anche dietro, sono nuovissime e in più il pezzo forte, diciamo, è questo Zekromex di Destini Futuri, non promo, che mi mancava l'ho avuto, è stata una delle prime X che ho avuto e poi l'ho scambiato perché abbiamo fatto un'offerta decisamente alta, quindi l'avevo data via, quindi grazie mille anche a X97 per questo scambio. Oh, mi sono scorrato di prendere le carte, vabbè, allora, facciamo così, questo è il TCBM con Fat Charizard, vabbè, tanto non interessa a molti le carte che mi ha scambiato, le dirò a voce, ciao Simozy Magician, siamo felici di fare questo TCBM con te, spero ti piacciono le carte, speriamo anche che ti arrivino in fretta, ci hanno messo un giorno e mezzo neanche, veramente grandi questi utenti, che mi hanno inviato un Dark Hardbox in condizioni mintissime, adesso sì sì sì, condizioni stupende, e poi altre due carte del McDonald che erano Blitz e Maractus che ho già messo nell'album, ma comunque erano mintissime, quindi ringrazio innanzitutto tutti questi utenti, veramente per la loro precisione, la loro disponibilità in fare questi scambi, spero di farne molti altri, specialmente con questo utente Fat Charizard che ho conosciuto per caso, però siamo stati subito molto in linea di pensiero, quindi ci siamo trovati molto bene, e niente, grazie anche a U697 e Super Mega Ricci 10, al prossimo video ci saranno i nuovi TCBM, soprattutto quello con The Shining Reshiram, ma anche altri che saranno veramente spettacolari, grazie mille di aver visto questo video, commentate, iscrivetevi e niente, grazie a tutti.